Ciao a tutti, mi chiamo Santoro Salvatore e sono il CEO di LineSRL, orgoglioso proprietario di domostore.com che si occupa di arredamento per la casa. Ho trovato questo corso molto interessante con argomenti utili per il mio business e soprattutto ho sfruttato le pause per conoscere imprenditori e confrontarmi con loro. I relatori sono di professionali, alta qualità, con i loro esempi pratici ho preso degli spunti per il mio e-commerce. Ha degli imprenditori come me per scalare nel business e aumentare il loro fatturato.